John Bourne ragazzi, John Bourne benvenuti in questo nuovo video, benvenuti in questo nuovo appuntamento e allora partiamo subito carichi perché oggi raga guardate chi c'è, ho due ospiti, due partecipanti clamorosi qui partiamo da quello che è alla mia destra, Gabbo Man Ciao ragazzi, buongiorno a tutti Gabbo Man l'uomo che si ricorda tutto, aggiungerei Su, tutto, tutto Sei carico, come te la senti oggi? Sono carico come le palle John Bourne Ragazzi sotto di me, Talox Ciao ragazzi, ci siamo, l'uomo che ha dato buca 3000 volte a Sickwolf, finalmente ha deciso di presentarsi Nella mia agenda c'è più 9 Talox, poi cancellato, poi Talox, cancella Talox, cancella Talox No dai, però alla fine ce l'abbiamo fatta, io ragazzi vi ricordo che qui sotto trovate i loro canali in descrizione Se vi va, date un'occhiata, se i contenuti vi piacciono, potete tranquillamente iscrivervi ai loro canali e seguirli Detto questo vi spiego rapidamente come funzionerà Avrete 7 gradini, da un livello semplicissimo, semplice, facile, medio, difficile, molto difficile, super difficile, praticamente impossibile Sostanzialmente partirà uno dei due, quindi facciamo conto, faccio l'esempio, poi decidiamo chi parte, che tanto è indifferente, che parte Gabbo E il suo nome è quello lì, cioè non è che io gli do un nome, gli do un calciatore, facciamo conto che io gli dia Federico Chiesa Vede la carriera e può rispondere solamente lui, a un minuto Se non lo sa, entro un minuto la palla passa a Talox, che però non farà 4 punti come farebbe Gabbo rispondendo subito, ma ne farà 3 Ok Se Talox non la sa, passa la palla a Gabbo, io do un aiuto, in questo caso, solo in questo caso, e Gabbo fa 2 punti Se Gabbo non la sa, passa la palla, un punto per Talox con un altro aiuto Sono 7 nomi a testa Ok Ovviamente, se li sapete tutti, fate 7 per 4, 28 punti a 28 punti, e poi c'è uno spareggio, ma insomma, vi sottolino che è molto difficile Solo due persone, non vi spoilerò chi, ve lo dico dopo, sono riusciti a farli, uno l'ha fatti 7 su 7 e l'altro 6 su 7 Vabbè, non sarà questo il caso, dai tranquilli tutti Non c'è questo pericolo Allora, guardate, avete un minuto di tempo per rispondere, ditemi chi vuole partire, tanto è indifferente, i nomi sono casuali, ma sono sempre È uguale, è uguale E ditemi chi, dai, ditemelo voi Dai, fai partire Gabbo, dai Va bene, parte Gabbo Allora, adesso vedrete subito a schermo il primo nome Eccolo qua, ci siamo, ve lo zoomo Si parte con Gabbo Istituto Palermo Juventus e Roma, vi anticipo ovviamente che i primi sono semplicissimi, quindi non che ci voglia molto Gabbo sta guardando, dimmi la tua Infatti io non c'ho idea E questo è Paolo Di Balla Ok, è Paolo Di Balla, tu dici Talox, tu lo sapevi? Si, 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 si L'hai capito? Da Palermo Juve Roma Palermo Juve Roma Ok Ci siamo, questi sono per scaldarvi, eh? Questi sono per farvi scaldare, quindi ci siamo Giusto? Quindi quattro punti immediatamente per Gabbo La palla passa subito a Talox con il suo secondo nome Ecco, anzi, il suo primo nome Questo anche è molto semplice a livello di Di Balla Allora, ti devo dire che mi hai messo in difficoltà No, attenzione Però, no, però Dato che è 2023, Borussia Mönchengladbach Credo che sia Marcus Turam Tu Gabbo avresti detto quello? Si, si, avrei detto Turam E Marcus Turam Che tra l'altro, due gol in otto partite, sembra che abbia segnato 1400 gol Esatto, vero Si fa altro che parlare di Turam Allora, ricordo una cosa importante E' assist, eh? Eh, si, è vero Ricordo una cosa importante per chi non lo sapesse Magari Gabbo lo sa perché lo fa anche lui Magari Talox no I gol che sono tra parentesi con le presenze Sono solamente nel campionato nazionale Ok Cioè non conta Champions League, Europa League, Coppa Italia, Conference Quelle là non le conta minimamente Allora, ci siamo Quindi al momento avete fatto quattro punti a testa Ma questi erano molto, molto, molto semplici Adesso si alza leggermente il livello Gabbo, questo è il tuo nome Sporting Lisbona Barcellona Porto Inter Chelsea Inter Becictas Alali Porto Becictas Casimpasa Vittoria Ghimaraes Sei ritirato nel 2022? Esattamente, sì Non è difficilissimo E io ve lo dico Non sono difficilissimi Cioè magari Vedendo una carriera lunga Fate un pochino impanicare Ma vi dico che questi sono abbastanza semplici Poi ci sono delle indicazioni abbastanza chiare Nei vari nomi Comunque sta scorrendo il tempo Quindi insomma 25 secondi Quella non va a mio favore Perché io poi Sono uno che c'ha bisogno di tempo Allora Sporting Lisbona Barcellona Porto Inter Chelsea Cioè due volte all'Inter 2008-2009 2009-2010 Io c'ho un vuoto totale C'ho un vuoto totale Non so proprio che ditte Te dico la verità Poi sapendo che c'è il tempo che sta scorrendo C'ho l'ansia 6 secondi 5 4 A così poco Non c'ho il tempo materiale E così Nome Questo è un giocatore portoghese 100% Mi dividi un nome Se no lo passo a Talo Un nome No non ce l'ho Vai Talo Per 3 punti Non ho la più pallida idea Di chi possa essere Meno male Sicuramente non è un attaccante Perché è un attaccante Che in 108 partite Ha fatto le 10 gol Direi che ci deve essere un problema Quindi O centrocampista o difensore Però Età Sicuro C'è fra 40 anni adesso Praticamente Che se nel 2001 Già giocava Quindi mettiamo che avesse 17 anni 20 37 37 anni Portoghese Suppongo Difensore o centrocampista Hai 20 secondi Poi dopo Indizio E la palla passa a Gabbo Per due punti Nel caso Hai giocato al Besiktas Prishcom Tu Besiktas Sì Due volte poi Hai capito Non gli era abbassata Quattro Tre E ok Al Barcellona Ha giocato poche presenze C'ha tutte le presenze Del mondo al Porto Significa che lo allenava Mourinho al Porto Poco da giraccio intorno Poi l'Inter Lo cede in prestito Al Chelsea Ma praticamente Ipotizzo A gennaio Non ha praticamente mai giocato E poi tornato all'Inter Ha fatto triplete Ma io veramente Giocatore portoghese Perché per forza È portoghese Ma sarà Una cazzata Abissale Cioè sarà Tante facile Uno Io Ripasso la palla A Talox Per un punto L'ultimo indizio È Ha fatto male All'Inter Ed era Ed era famoso Per un gesto tecnico Mi è venuto in mente Ma era facilissimo Tant'è un punto Comunque Non sposta gli equilibri Se Talox Lo sa Comunque Però Insomma Fa comodo Ha fatto male all'Inter Con un gesto tecnico No Lui era famoso Per un gesto tecnico Però ha fatto male All'Inter No ha fatto male Nel senso del suo percorso All'Inter Vai là Chi è No no Stavo per di una cazzata Forse Mi era venuto in mente Quaresma Quaresma È Quaresma Sì È Quaresma Dai però era semplice Col Chelsea Non mi ricordavo Ma io Lo sai che cosa Mi ha tratti in inganno Che cosa Barcellona Ho detto Ma quando mai Quaresma ha giocato a Barcellona Non me lo ricordavo Nemmeno io Io dall'inizio Avevo pensato a Quaresma Ma ho detto Barcellona Non è proprio possibile Infatti No è vero Alcune parti di carriera Non le sapevo nemmeno io Perché se no Te l'avrei detto Occhi chiusi Io ho visto Barcellona Ho detto Quaresma A Barcellona Non c'è mai stato Non può essere lui E quindi stavo a pensare Un altro Vabbè Vabbè Tanto siamo 5 a 4 Adesso la palla passa a Talox Il livello è più o meno questo Magari lo sapete di più Magari di meno Eccolo qua Perugia Prato Su Tirol Venezia Empoli Verona Lazio Vai Talo Empoli Lazio Nel 2022 Allora Dovrebbe essere Zaccagni Ok Però Ha fatto solo un gol L'anno scorso In campionato Potrebbe essere Che non mi ricordo Dove giocasse Sì dai Io dico Zaccagni Allora ti dico Ci stava il ragionamento Perché Zaccagni È dal Verona Però è sbagliato Non è Zaccagni La palla passa a Gabbo Per 3 punti È casale È la tua risposta definitiva? Aspetta ci penso un attimo Mi stai a fare di ansia C'è 50 secondi Io devo chiederlo sempre Ah vabbè 50 secondi Allora tanto tutto quello indietro Non me lo ricordo Però Chi era al Al Verona Della Lazio A meno che non è Cumbulla Non mi vengono in mente Altri È casale Sì è giusto È casale È casale Bravo È casale Ma tu come dici Metti in difesa Sempre Fabio Vabbè No però Allora Su Zaccagni Doveva Doveva aiutarvi Aiutarti nel caso Italox I gol Perché a Verona Che 0 gol E infatti Però l'unico Della Lazio Che mi veniva in mente Che avessi giocato al Verona Era lui No vabbè ci stava Ci stava Infatti l'ho messo apposta Perché sapevo che si erano mossi Praticamente insieme Quindi ho detto Magari Magari li traggo in inganno Siamo 7 Gabbo 5 Talox Tocca a Gabbo Terzo gradino su 7 3 2 1 Eccolo qua Barcellona B Barcellona Bayer Monaco Liverpool Tiago Alcantara Mazza bravo Subito Immediatamente Anche io l'avevo capita subito Simo Allora Te svelo un trucco Quando me li metti Con pochi trasferimenti Sono abbastanza deciso Quando me comincio A mettermi a pazzone Se poi mi dai un minuto Io vado nel pallone Bravo però Bravo Non era Non era semplice Comunque Tiago Alcantara Non si è mai avvicinato All'Italia Nonostante tra l'altro Lui abbia parenti italiani Credo di Como Quindi insomma Sì sì Sono quasi certo di sta cosa Che poi non so se lo sapete Penso di sì Qualcuno sì Qualcuno È il fratello di Rafinha Anche se con i meni Non cercano un cazzo Però Giano anche per due nazionalità diverse Comunque allora Bravo Gabbo 11 a 5 per te Ma tocca ancora a Talox Nel turno 3 Ripeto che adesso il livello Si sta alzando Quindi Andiamo sul suo nome Napoli Parma Verona Parma Napoli Sassuolo Via al tempo Ragione ad alta voce Voglio sentire quello che hai da Allora Allora Mi viene da pensare Quel 2006 2014 Napoli Successivamente Sassuolo Chi è il giocatore del Napoli Che si è trasferito al Sassuolo Dovrebbe essere Cannavaro Paolo però Giusto Io il Parma Non me lo ricordo Nel 2002 Avevo tre anni Quindi Mi fido di questo E dico Paolo Cannavaro È giusto È Paolo Cannavaro Bravo 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 Anche tu 4 punti Anche per te Che quindi arrivi a 9 Riaccorci su Gabbo Sì Vi posso dire Non era semplice Anche perché io pure Prima di Napoli Non mi ricordo nulla Di Paolo Cannavaro Non so Gabbo magari se lo ricordo Io non me lo ricordo Né a Parma Né a Verona A Parma sì Parma lo ricordo Verona no Proprio zero E sì Sapevo che era stato Già una volta Ha cominciato Diciamo la carriera A Napoli Questo me lo ricordavo Le due parentesi A Parma no Però bene o male Insomma Saritiamo nel 2017 Sì sì Era facile Allora Prossimo nome per Gabbo Quindi quarto gradino Eccolo qua È andato anche bene Perché sono pochi So pochi trasferimenti Real Madrid Real Madrid Monaco Liverpool Al Itiad Non è difficilissimo Secondo Cioè se lo imbroccate Giusto Non è difficilissimo Però sono andati una marea In Arabia Quindi insomma È quello che sto cercando Di ricordare Un calciatore Del Liverpool Sai che cosa mi sta mettendo In Real Madrid Ti sta mettendo in difficoltà Ha paura proprio Ha paura proprio Ma non lo ricordo Neanche al Monaco Però non può essere lui Un calciatore Del Liverpool Ecco Chi è andato Hai 20 secondi ancora Io non ricordo Chi è andato al Liverpool Era Alityad No però aspetta Uno del Liverpool Non è andato All'Alityad È andato Alla squadra Quella Dei Pagni Non so se non ricordo male 5 4 3 2 1 Nome Sì Boh che cazzo ne so Sì 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 È la squadra De Pense No allora Non può essere lui Vabbè senti Tanto se te dico Un nome O non te lo dico Spara un nome a cazzo Vai Però se io adesso Non te lo dico Poi mi ripassa la palla A me se lui non lo sa Comunque anche se me lo dici Dopo ti ripasso la palla Anche se sbagli Spara un nome Anderson Non è Anderson Talon Allora Se la memoria non mi inganna Vediamo se lo sa Ha fatto Monaco Liverpool Fabinho E poi Fabinho È andato A giocare In Arabia Saudita Non so in quale squadra Però sparo Bravo 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 Come veniva in mente Fabinho Come veniva in mente Fabinho Eh sì Quei Real Madrid Ti trae un inganno Perché pure io ho detto Quando mai ha giocato Fabinho A Real Madrid Non me lo ricordavo nemmeno io A Real Madrid Vi dico la verità No manco io Pare di sì Però va bene così Siamo 12 per Talox 11 per Gabbo Quindi Talox rimette Il musino avanti Ma quarto Nome per Talox Attenzione Attenzione a questo Bayern 2 Bayern Borussia Bayern Borussia Uh Attenzione perché Qui Ce ne sono Di giocatori Che hanno fatto Questo percorso Almeno 4 E E Chi cazzo Allora Sono indeciso Tra Mario Goetz Ok Potrebbe Potrebbe essere Però adesso Aspetta Però adesso Non gioca più Mario Goetz Nel Dortmund Se non erro Gioca in un'altra squadra Il secondo Potrebbe essere Matt Hummels 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 Però Non lo ricordo Nella fase del Bayern Monaco Del Borussia Dortmund Nel 2016 Al 2019 Effettivamente Hummels Sono un po' di anni Che se n'è andato Dal Vabbè dai Io sparo Hummels Tu Gabbo Avresti detto qualcosa O eri in dubbio Hummels Sì Forse Ma non so Così convinto Ti dico la verità È Hummels È Hummels Non ero convinto Al cento per cento È Hummels Quanto poi Goetz Giustamente Il ragionamento Che ha fatto Era assolutamente Corretto Eh sì Perché Goetz È andato Diciamo Poi S'era andato Al Francoforte Esatto Poi C'era Lewandowski Ha fatto un percorso Simile Poi è andato Al Barcellona Sì sì Ce n'erano diversi Comunque Che hanno fatto Bayern Borussia Qualcuno è anche Poi tornato Per l'appunto Hummels Ok allora Attenzione Perché a questo punto Mancano ancora Tre calciatori A testa Quindi Insomma In totale Mancherebbero 24 punti Ancora Siamo 16 a 11 Per Talox Ma se adesso Gabbo fa giusto Va 16 a 15 Quindi deve fare Assolutamente giusto Gli faccio vedere Il suo nome Eccolo qua Purtroppo E' andata male Ciao Lissone Piacenza Verona Parma Milan Fiorentina Genoa Bologna Genoa Guangzhou Fiorentina Palermo Empoli Pescara Spezia Però non è difficile Ti dico la verità Devi focalizzarti su Le cose giuste Eh ma un minuto Io non Mi puoi fare leggermente Più zoom Assolutamente sì No così non vedo Ecco qua Così dovresti Non vedo bene Non vedo bene Ok così Così va benissimo Ti ringrazio Vai Questa la carriera nel 2000 E sei ritirato nel 2018 Sì Sei ritirato nel 2018 Ha fatto Palermo Un prestito alla Fiorentina Genoa Mamma mia Eh ma forse Doresti guardare i numeri più grossi Non quelli più piccoli Eh il Milan Ok Verona Parma 118 presenze 48 collo con la Fiorentina 94 È un attaccante Secondo me Credo che sia abbastanza Palese Io non c'ho in mente nessuno 5 4 3 2 1 Lo vuoi sparare uno a caso Troppo poco tempo Troppo poco tempo Allora posso Sparare uno Se no passo a Talox Sparare uno a caso Oh no Non c'ho manco nome da sparare Talox 3 punti vai Non ho la più pallida idea Però Mi concentro Sul Sul Milan Milan e Fiorentina Chi è stato un attaccante Del Milan Che ha giocato Nella Fiorentina Ecco Il nome In questo modo Bisogna ragionare Il nome è uno Cioè uno Nella mia mente è uno Ma in realtà Difatti non ne ho idea Mi verrebbe da dire Alberto Girardino Ok Però ad Alberto Girardino Al pescare E nello spezia Non me lo ricordo Ma dato che Non ho altre alternative Sparo Alberto Girardino Ed è Alberto Girardino Bravo L'aspettavo Bravo Ma io ci sono arrivato Nel momento in cui Che ho passato Con la tranquillità Ho visto Parma Milan Fiorentina Genoa E non ho dovuto più Guardare altro Non me lo ricordavo A pescare spezia Neanche io Però Mi era venuto in mente Ma infatti Secondo me Tu ti devi focalizzare E tanto Bravo Devi guardare subito I numeri grossi Quindi tu guardi Milan Fiorentina E Parma Dici cazzo Chi è che è passato Dal 2002 2005 Parma Poi c'era il Milan Negli anni Tra l'altro Ha vinto la Champions Che era 2007 Poi comunque Io sono arrivato A prendermi tutto il tempo Quando lo faccio io Con Fabio Ci prendiamo almeno 4-5 minuti per uno Capito Ci sta Ci sta Ci sta Diciamo che l'ansia Poi la pressione Di fare tutto veloce Esatto Allora Prossimo nome Questo per Per Talox Eccolo qua Lazio Verona Bari Salernitana Parma Juventus Valencia Monaco Genoa Bologna Montreal Impact Marco Di Vaglio Come cazzo hai fatto? Eh calcola Perché quel Montreal Impact La bandiera Lo trovavo sempre Su FIFA E ogni volta Mi faceva bestemmiare Che trovavo Sto Di Vaglio Io pensavo fosse Di figlio Di Vaglio Non me lo ricordo Se non al Bologna Cazzo Ne mancano due A testa In realtà Matematicamente Gabbo Non ha ancora perso Quindi adesso Devi fare proprio Incetta di vittorie Vai vai E puoi farcela Perché comunque Sono tutti difficili Quindi c'è nel senso Così come puoi sbagliare Tu può sbagliare Anche lui Da adesso in poi Quindi vediamo Come ti dice Vado avanti Prossimo nome Eccolo qua Ecco il nome di Gabbo Allora Renato Curi Milan Fiorenzuola Monza Prato Lecco Monza Napoli Verona Lazio Milan Bayer Monaco Milan Lecce Via il tempo Dimmi come stai ragionando Ad alta voce Non sto ragionando Benissimo 2002-2007 Lazio 135 presenze Comunque 17 colletti A me Sembra palesemente Un difensore C'è qualcosa Che Lazio-Milan Ok Ma c'è la parentesi Bayer Monaco Che dovrebbe darmi Un indizio Invece Mi sta facendo salire Un'ansia Clamorosa E ancora di più Il Lecce 2011-2014 Perché si è ritirato Già da qualche anno E Io non ricordo Non ricordo Minimamente Dietro non guardo Proprio No Non guardavo Dietro non lo ricordo Io Lazio 2002-2007 Comunque è una parentesi Importante Post Praticamente Diciamo Post scudetto Della Lazio E Io c'ho in mente Che dica la verità Punk e Favalli Se penso Pensori Ex Lazio-Milan Ok Dimmi uno Tra i due Non mi risulta Nessuno dei due Sia stato al Bayern Ok E non mi risulta Nessuno dei due Sia stato al Lecce Ok Onestamente E Te dico Pancaro Ma non è Allora Ti dico che Pancaro È sbagliato Ok Però comunque Pancaro Secondo me qualche squadra piccola L'ha fatta Non il Lecce Infatti si ha fatto Torino Cagliari Fiorentina Torino Talox Io sparo Io sparo l'altro Che ha detto lui Perché non so che Dio Secondo me non è neanche Favalli Favalli Spari Favalli Non ho idea Guarda ti dico che Favalli ha giocato Cremonese Lazio Inter Milan Quindi non è nemmeno Favalli La palla ripassa Gabbo Do l'indizio Ed è un indizio importante E ti dico che Faceva parte Parte Non per forza deve essere stato L'idolo però Faceva parte Sì sì Sono quasi sicuro di questa cosa Dei convocati al Mondiale 2006 Lazio 2002-2007 È un difensore Comunque seppur 135 presenze 17 gol Insomma non mi sembrano pochi Esterni o difensori centrali Milan 35-2 C'è andato No Poi lo hanno mandato in prestito Al Bayern Ecco perché non lo ricordo 18 presenze E poi Fino al 2011 È stato al Milan Che cazzo Ma chi è 135 presenze con la Lazio Ma so tante poi Capito So tante presenze con la Lazio Santo cielo So cinque anni di Lazio Per quanto non erano titolari No mi sa che era pure titolare Tra l'altro 5-4 Allora Talox per un punto Non solo era titolare alla Lazio Ma è stato anche capitano Per tanto tempo E giocava dietro Da terzino Non ne ho idea Però così non vale Cioè io non so neanche Non ero nemmeno cosciente Dal 92 al 2007 Però io ti dico Io ti dico Di che anno sei Io so del 99 Vabbè io so del 96 Però la Lazio Ve lo ricordo bene È andato pure È andato pure A giocare Sì il mondiale Cazzo Non ne ho idea Pazzo Vabbè allora Ve lo dico Guardate qui Nessuno fa punti Vi dico quale sarebbe stato L'indizio che vi aiutava Se non sapete questa Sbatto la testa al muro E a mondiale del 2006 Faceva il barbiere Ha tagliato i capelli A Camoranesi Eh chi era? Oddo È Oddo È Oddo Eh ma io a Lecce Non lo ricordavo minimamente E no Manca il Bayern Ti dico la verità Eh secondo me dovete Non pensare a dove Chiudono la carriera A meno che non abbiano Fatto tre squadre Perché poi questi Vanno sempre A svernare Semplicemente È una questione di tempo Per lo meno Per quanto mi riguarda Con più tempo Questo te lo avrei Indovinato Occhi chiusi Anche senza indizi Eh no è probabile Lo so è vero È vero Il tempo mette ansia Nome di Talox Eccolo qua San Paolo Parma Palermo Roma Cerezzo Osaka Vissel Kobe Batatais Raga questo è il sesto gradino Questo è facilissimo Beh è facile magari per te Che lo sai Lui non lo vedo molto Molto cosciente Del fatto che sia facilissimo Allora Soffermiamoci Su quel Palermo Roma Perché le altre squadre Io non so neanche Eh in Giappone Ha giocato questo Osaka Kobe La carne di Kobe È giapponese Osaka in Giappone Questi sono i ragionamenti Che vanno fatti La carne di Kobe Allora Della Roma 2010 2012 Che poi è andato a giocare Allora Vediamo i numeri 43 Presenze Già 43 Presenze 8 gol Dal Palermo È andato alla Roma Qual è il giocatore Che è andato al Palermo Alla Roma Boh Te la sparo la Balzaretti Sbagliato Gabbo Visto che è semplicissimo Sparacela Fai sti tre punti Fabio Simplicio È Fabio Simplicio È Fabio Simplicio Bravo Bravo Da cosa ti è venuto in mente Eh vabbè Parma Palermo Roma Eh sì dai Poi io gli volevo un sacco bene a Simplicio No no ma Me lo ricordo proprio per No guardate Dico la verità La parentesi giapponese Però per me Simplicio è finito come giocatore Dal momento in cui ha lasciato l'Italia Poi l'ho perso di strada Però Parma Palermo Roma Non me ne venivano in mente altri Quindi Poi San Paolo Quindi ho pensato è brasiliano Solo lui poteva essere Giusto giusto Allora vi dico che Questa qua Off camera L'ho fatta Mi sembra A Brogna contro Venom Per fargli vedere il livello Abbastanza difficile E non l'hanno indovinata nemmeno con gli aiuti Addirittura Sì gli aiuti erano È soggettiva la cosa Simo È soggettiva Perché uno che per me è facilissimo Per te è difficilissimo E viceversa Ah poi Anche Gabbo è tifoso della Roma Quindi la Roma La passura pieno Io per esempio Come prima Cannavaro Col Napoli Cioè Mi è venuto in mente Perché io tifo Napoli E quindi Capito L'hai eseguita più costantemente La cosa Allora ultimo gradino Quanto siamo Punteggio 23 a 14 Quindi credo che anche matematicamente Tu abbia praticamente vinto Ultimo gradino Eh sì Così è Io sto segnando tutti i punti Ultimo gradino Talox Cesena Milan Vicenza Milan Fiorentina Anzi no Tocca a Gabbo questo Giusto Gabbo Gabbo Cesena Milan Vicenza Milan Fiorentina Allora 98-2013 È una parentesi Grandissima Fino al 2014 è stato un calciatore del Milan E della Fiorentina Poi si è ritirato Ha fatto un anno alla Fiorentina E ha chiuso la carriera Dai numeri a un centrocampista Polesemente Porco cane Questi sono difficili Che poi secondo me Tu Soprattutto tu Perché hai vissuto quell'epoca lì Appieno Ci puoi arrivare Tranquillamente Proprio Comunque era un bel giocatore Secondo me Sicuramente italiano Sicuramente sì Il problema è che 98-2013 Cioè questo ha vinto Un sacco De cazzi Eh sì E facendo 326 presenze poi eh E solo in campionato Ah forse ce l'ho io 10-9-8-7-6 Siamo a 4 secondi 3-2-1 Dai sparami un nome Brocchi Ma non è Non è Brocchi Talo Potrebbe essere Ambrosini È Ambrosini È Ambrosini È Ambrosini Da che ti è venuto in mente? Da Fiorentina Da Fiorentina Sì Quella Che ha fatto tante presenze al Milan Ha vinto tanto Però non Non è un giocatore Che risaltava Diciamo A livello di numeri E cose varie Poi ho visto Me lo ricordavo la Fiorentina Che avesse fatto qualcosa E poi dopo la Fiorentina Infatti non c'avevo più ricordi Mi ho detto È anche datato Ormai sta su Amazon Tu sicuramente Sarà lui Bene Dopo lo vado a comprare su Amazon Ambrosini A parte le stranzate Bravo Bravo Manca l'ultimo nome Il super difficile Che è quello di Talox Che questa era super difficile C'è un altro super difficile Ve lo faccio vedere immediatamente Eccolo qua Universitario Colon Colon Catania Fiorentina Genoa Fiorentina Betis Universitario Vai Talo Ho avviato il tempo È difficile È difficile Chiazzaralè Fiorentina 12 gol Mi faceva impazzire Sto giocatore All'universitario All'universitario Ah ma non è che è Guarda Vargas Quel Vargas Della Fiorentina Capelli lunghetti Tu Gabo che pensi Può essere Vargas secondo te? Sì potrebbe essere Ma non ricordo Il prestito al Genoa E poi non ricordo Però Non mi vengono in mente Altri nomi Potrebbe essere lui Da che ti è venuto in mente Nel caso fosse Talox Vargas? Boh non lo so Quella cosa A Fiorentina A Fiorentina L'unico Un po' sudamericano Che mi ricordo Della Fiorentina Un po' datato Quindi L'unico che mi ricordo È bravo È Vargas Davvero? È Vargas Oh per fortuna Carina Pippa Oh davvero? Comunque le posso dire una cosa Hai detto Sei una Pippa Ti dico Hai fatto 30 punti E mi sa che sei stato Il primo in assoluto di tutti No infatti Nessuno ha fatto 30 punti C'è gente che ha vinto Con 18 punti Non me lo sarei mai aspettato 14 Le hai indovinati tutti Tutti le hai indovinati Non me lo sarei mai aspettato Ve lo giuro È stata una Questi sono gli anni di FIFA Perché Quelli un po' più vecchi Sono gli anni in cui Nerdavo a FIFA E me li ricordo un po' Chapeau Bravissimo Bravissimo cazzo No non me l'aspettavo Bravo davvero Grazie grazie Nemmeno io me l'aspettavo Ti richiamerò E voglio vedere poi Come te la caverai Con gente che Tra iarda Hai visto L'attesa Del desiderio Ma fa un culo Se mi ride buca In altre 4 volte Per il prossimo turno Te meno Mi vengo alla finale Gabbo Ti ha Cioè Ma io me l'aspettavo Nel senso Te l'ho detto già Dall'inizio Ho detto a me Con troppo poco tempo Non vado molto lontano Mi serve tempo L'hai visto pure Se mi dai un po' Più di tempo Che non metti un tempo limite Non c'ho l'ansia Quindi vado molto più in Calcola che Girardino E non ricordo Un altro calciatore Appena ho passato il turno Ho liberato la mente E li avevo presi No quello è vero Quello è vero Il tempo mette tanta tanta ansia Però poi ti è nata pure male Perché io comunque Ho sorteggiato a caso Cioè ti è capitato un avversario Cioè ha preso tutto Vargas Ha preso Ambrosini Ha preso Divaglio Ha preso Gilardino Ha preso Ha preso Oddo non l'ha preso Nessuno di voi Ha preso Hummels Fabinho Sì sì No no Ma è giusto così È giusto così Temetevi a pensare i futuri Temetevi a pensare i futuri E allora ragazzi Io vi ringrazio a tutte e due Vi ricordo che Qui sotto in descrizione Trovate entrambi i canali YouTube Date un'occhiata Se volete iscrivervi Non siete iscritti Iscrivetevi Seguitevi Eccetera Con talo ci rivediamo presto Per sempre questa serie Con Gabbo Ci vediamo per altri video Stiamo preparando belle cose Non vi anticipo nulla Grazie a tutte e due Buonasera Allende come sempre Ciao a un prossimo video